Andiamo tutta in scena, andiamo pronti in sartuaria per favore 1, 2, 3, 4, 5, 6, poi ti muovi, vai Motore, azioni, alza un pochino la testa Stai indietro a limite, adesso guarda in alto, alzi verso di me Guarda sempre le mie mano Non vi va come vi guardo? Non vi guardo, eh non vi guardo Giriamo Buonasera ragazzi Buongiorno, mi chiamo Liglia Trapani e sono un casting director E questo è il nostro studio Casting è un termine che non ha un corrispettivo in italiano Deriva dal verbo inglese to cast che significa assegnare le parti Ed indica il processo volto alla formazione del cast Ovvero quell'insieme di attori o a volte anche non attori Che interpretano i ruoli di un prodotto audiovisivo Che si tratti di un film o di una fiction o anche di una pubblicità Il processo di casting si svolge in fase di preproduzione prevalentemente E a volte è anche la premessa necessaria perché il film si faccia Infatti bisogna trovare degli attori che garantiscano contemporaneamente Un livello artistico del film Ma che rispettino anche le esigenze di mercato Ovvero la distribuzione Se non si trovano questi attori è possibile che i finanziamenti vengano a mancare Ma tutto questo discorso varia molto a seconda del tipo di prodotto a cui si sta lavorando Se si tratta di un film d'autore o di una fiction televisiva Oppure di un film di cassetta Dunque detto in maniera molto sintetica Il casting director è colui che deve trovare gli interpreti giusti per ogni ruolo del film Ovvero quegli interpreti che daranno valore, anima e corpo A un ruolo che per il momento si trova solo sulla carta E per fare questo il casting director deve conoscere ovviamente approfonditamente gli attori Deve saperne valutare le potenzialità, le capacità Deve avere una sensibilità artistica, un intuito psicologico Ed essere anche a conoscenza di quelle che sono le esigenze di mercato Adesso vi illustrerò come si svolge il nostro lavoro Tutto comincia con la lettura della sceneggiatura Un tempo ce le fornivano cartacee Oggi invece ce le mandano ovviamente via internet E di solito sono watermarked Ovvero hanno il nostro nome in filigrana E sono coperte da una clausola di riservatezza Per la pubblicità invece di solito forniscono uno storyboard Ovvero una specie di fumetto Dove le varie inquadrature del film sono disegnate in sequenza Esaminiamo passo a passo la realizzazione del casting di un ipotetico film Come abbiamo detto iniziamo con la lettura della sceneggiatura E mentre leggiamo ci appunteremo tutti i vari personaggi che incontriamo E le loro caratteristiche, l'età, l'aspetto fisico, le caratteristiche psicologiche Tutte le informazioni che riusciamo a estrapolare dalla lettura della sceneggiatura Dopodiché passiamo a una fase molto importante Ovvero il confronto con il regista Il regista ci dovrà illustrare la sua visione artistica del film E ci dovrà raccontare come immagina questi personaggi Così avremo tutta una serie di nuove informazioni da aggiungere alla nostra cast list Seguirà il confronto col produttore Il quale a sua volta ci dirà quali sono le esigenze produttive del film E qual è il budget In base al quale noi possiamo sapere quali attori proporre e quali no Normalmente per i ruoli di protagonista Il produttore desidererà avere dei cosiddetti nomi Ovvero degli attori popolari che garantiscano poi un successo al botteghino Ma gli attori molto popolari di solito sono costosi e anche molto impegnati Quindi bisognerà riuscire a trovare la chiave per risolvere questo problema Terminata la cast list con tutte le informazioni Passiamo alla fase di ricerca degli attori che vogliamo proporre per i vari ruoli In base alle loro caratteristiche fisiche, psicologiche e anche in base alle loro qualità attoriali È ovvio che più complesso sarà il ruolo più dovranno essere bravi gli attori Io inizio sempre la ricerca sul nostro database Un database che abbiamo sviluppato già da molti anni Nel quale posso inserire l'età, le caratteristiche fisiche ed altre caratteristiche Che ci potranno fornire una prima lista di nomi da prendere in considerazione Allora nel database possiamo inserire una serie di parametri Che ci aiutino a fare una ricerca il più mirata possibile Ad esempio possiamo cercare a Roma Una ragazza, diciamo fra i 20 e i 40 anni Africana? Afroamericana? Proviamo a vedere che cosa ci dà Via, proviamo 44 ragazze che corrispondono a questi parametri Adesso si tratterà di vedere quale va bene per noi Questo è il momento di ricorrere alla collaborazione con gli agenti Gli agenti sono coloro che rappresentano e promuovono gli attori Mentre noi casting director dobbiamo trovare l'attore giusto per un ruolo Gli agenti devono trovare il ruolo giusto per i loro attori Gli mandiamo dunque la nostra cast list E loro ci proporranno quelli dei loro attori che ritengono corrispondere alle esigenze dei nostri personaggi Fra la lista ricavata dal nostro database e le proposte degli agenti Avremo dunque una ampia scelta di nomi Fra i quali selezionare quelli che effettivamente vogliamo proporre a regia e produzione E i quali vogliamo fare un provino Arriviamo così alla fase clou di tutto il processo Quella dei provini Recentemente si fa spesso ricorso all'autoprovino Ovvero l'attore a casa propria si fa riprendere mentre fa la scena E poi invia il filmato al casting director È un sistema molto utile in un periodo come questo di distanziamento sociale O anche se l'attore si trova in una sede diversa da quella del casting director Ma lascia sempre molto a desiderare Sia da un punto di vista tecnico Sia perché viene a mancare il momento chiave del rapporto fra casting director e attore Ovvero quando il casting director in sala provini Dirige l'attore, gli dà delle indicazioni Gli può far cambiare un'interpretazione che non ha ritenuto idonea Quindi il processo di self tape può servire come una prima selezione Ma dovrà essere sempre seguito dalla verifica di un provino in sala E ora vediamo come si svolge il provino Scusate la mascherina ma per i provini è necessaria Abbiamo qui Jessy Terry Una giovane attrice che è venuta a darci una mano per darmi una dimostrazione pratica Ciao Jessy, ciao Aspetta un attimo, vado a preparare la sala provini e ti chiamo A me Eccoci in sala provini pronti Dovrebbero esserci con me in teoria un cameraman e una spalla E' un attore che dà le battute Però per oggi ce la tagliamo come siamo Allora, Jessy è pronta Che è già tolta la mascherina E adesso lasciamo Prego Jessy, vai a segno Ok, perfetto Allora guardando in macchina mi dici per favore il tuo nome e il tuo nome Ciao, mi chiamo Jessy Lynn Perry Sono metà australiana e metà cinese della Minesia E ora abito a Roma lavorando come attrice Perfetto Allora ti è chiara la scena? Hai capito tutto il meccanismo? Tu stai accompagnando questo signore cinese che non conosci Gli fai da guida, da interprete E siete andati a cercare una ragazza Ma scoprite che non è la ragazza che lui cercava E lui ci rimane molto male Ok, allora tu preghi una ragazza di allontanarsi E poi gli chiedi spiegazioni Quindi per, cioè il momento quando parlo con Mindu In quel momento è un cambio in un modo di vedere Mindu? Sì, capisci che c'è qualcosa che non era così semplice Come avevi pensato tutta la situazione Che c'è qualcosa che non ti è chiaro Che non hai mai ancora capito Quindi cambia il mio sguardo Sì, esatto Ti incuriosisce di più quest'uomo C'è un mistero Ok? Pronti? Ok Azione Ci puoi scusare un attimo? Grazie Mindu Io credo ora sia il momento Che tu mi spieghi chi stai cercando esattamente Solo così potrò aiutarti Sto cercando mia figlia Sono dieci anni che non la vedo né la sento Da quando le cose fra di noi si sono messe male Non te l'avevo detto Perché 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 non volevi vedere la faccia Top Ok Molto bene, Jessie Ma Io vorrei cambiare un'articola cosa nel finale Sì Cioè Vorrei dirti Tu sei stata un po' dura adesso Quando le levo Volevi perdere la faccia Sì In cui tu non eri a conoscenza Certo E quindi glielo dici con dolcezza Ok Con un sorriso anche un po' incoraggiante Ok Va bene? Perché è il proprio abilito Ok? Pronti? Pronti? Partito E azione Ci puoi scusare un attimo? Grazie Mindu Io credo ora sia il momento giusto Che tu mi spieghi Che stai cercando esattamente Solo così potrò aiutarti Sto cercando mia figlia Sono dieci anni che non la vedo Né la sento Da quando le cose tra di noi si misero male Non te l'avevo detto Perché 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 non volevi tendere la faccia Top Ottimo Ok Una volta terminati i provini Li rivediamo E decidiamo quali proporre A regia e produzione Se abbiamo fatto un buon lavoro Di preselezione Prima dei provini Probabilmente li presenteremo tutti O quasi tutti Regista e produttore A loro volta guarderanno i provini E selezioneranno gli attori Che gli sembrano più interessanti Può darsi che Già in questa fase Decidano quali saranno Gli interpreti del film Ma molto più probabilmente Si ricorrerà A una seconda fase Quella dei callback Ovvero Verranno selezionati Gli attori più interessanti E verranno richiamati Per un secondo provino Possibilmente In presenza del regista Il regista avrà così Possibilità Di verificare di persona Come si trova a lavorare Con quegli attori Come rispondono Alle sue indicazioni di regia E se effettivamente Gli sembra che Siano giusti Per arricchire E concretizzare Il personaggio Chi otterrà la parte In ultima analisi Quello che cerchiamo È quell'attrice O quell'attore Che valorizzeranno Di più il ruolo Che lo arricchiranno Sappiamo tutti Che molti attori Possono andare bene Per un ruolo Ma uno solo È quello che è perfetto Se riusciamo a trovare Se riusciamo a trovare Quell'attore Se quell'attore Verrà scelto Possiamo dirci Soddisfatti Del nostro lavoro A questo punto Non ci resta Che comunicare Agli attori Che sono stati scelti E potete immaginare Che questo è il momento Più bello Di tutto il processo Per un ruolo Per un ruolo Per un ruolo